Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Nel altro giro, altro profumo, voglio parlarvi di Chance Eau Fraiche, un flanker del famosissimo Chance de Parfum di Chanel. Come già anticipato su uno dei miei primi video, Chance ha fatto un sacco di flanker e voglio fare una comparazione con voi e conoscere meglio le loro note olfattive uno ad uno. Oggi è il turno di Chance Eau Fraiche. Allora, Chance Eau Fraiche è una meravigliosa botticina di colore verde, infatti è conosciutissimo come Chance Green One, quindi il verde di Chance. Chance innanzitutto Eau de Parfum come Eau de Toilette è un giallo intenso ed è un floreale. Chance Eau Fraiche invece rimane sul verde e ci anticipa leggermente di che cosa si tratta il profumo. Allora, se devo descriverlo di primo impatto come profumo, lo definisco un profumo che mi ricorda il limone e il cedro. Voi quando lo spruzzerete sulla vostra pelle sentirete proprio la densità della buccia del limone e del cedro. Infatti sulle prime note noi troviamo proprio il limone e il cedro. È molto molto verde come profumo, anche se non lo definirei un verde come può essere Aura di Mouglet. Lo definisco più agrumato e più cedrato. Non so se avete mai sentito l'odore del cedro, ma è esattamente la buccia del cedro a questo odore. È un fiorito frizzante ed effettivamente è un Eau de Toilette. Mi piace tantissimo questo prodotto, lo sto utilizzando tra l'altro in questo periodo. Frizzante da ragazzina, sembra molto quelle colonie che sanno di pulito, sanno profumo di limone. Ricorda abbastanza Chance. Una cosa che mi piace molto di questo prodotto, una cosa che mi piace tantissimo di questo profumo, è che appunto ricorda veramente Chance Eau de Parfum, che è il mio profumo preferito in assoluto. Lo ricorda, versione più fresca, versione più agrumata, soprattutto versione più cedrata. E non lo dimentica, cosa che alcuni flanker che posseggo fanno. Come vi dicevo prima, troviamo sulle note di testa il limone e il cedro, che vi dico la verità, sono i veri protagonisti di questo profumo. Poi troviamo come sempre, come in tutti i Chance, il pepe rosa, il gelsomino e il geccinto acquatico, che è un fiore molto succulento, che viene utilizzato nei profumi per dare questa nota acquatica, che si sente e si percepisce tantissimo, soprattutto dopo un'ora che si è applicato Chance Eau Fresh. Come note invece di fondo troviamo una particolare nota, cioè il legno di tic, l'iris, l'ambra, il pacciulli, il mosco bianco e il vetiver. Allora, come prima sensazione, devo dirvi la verità, allora subito, subito, freschezza assoluta, limone, quasi maschile come profumo, vi devo dire, si ha subito un sentore veramente di pepe, abbinato al cedro, si passerà subito al gelsomino. Il gelsomino, il gelsomino acquatico si sente, però è un po' un mix tra il gelsomino troppo esuberante e il pepe che lo sovrasta, quindi gli amanti del gelsomino non lo troveranno effatizzato qui in questo profumo. Ah, veramente è uno dei miei profumi preferiti. C'è chi lo definisce unisex o addirittura maschile, perché effettivamente ricorda quei profumi quasi estivi dei ragazzi, però non fatevi ingannare ragazzi, perché dopo qualche minuto che il cedro viene un pochettino a mancare e si passa poi al limone, si passa poi all'agrume un po' più dolce, meno pungente, meno maschile, si ha chance de parfum alleggerito, molto molto più femminile dell'intro e sul dry down, quindi dopo qualche ora, si percepisce addirittura una nota molto dolce. Iris come fondo, l'ambra e dopodiché si percepisce i paciuli. Guarda tantissimo l'originale, però è una versione molto aggrumata. Sapete che per me le note aggrumate sono un must dei profumi. Direi che non mi piacciono molto i profumi che non ne contengono, anche perché l'agrume dà quel senso di frizzantezza, di essenza giovanile di una donna, che secondo me non deve mai mancare, è energia allo stato puro, davvero questo profumo. Il voto Persistenza per me è un 7 su 10, ricordiamoci sempre che è un Eau de Toilette. Il sillage di questo profumo è spaziale, davvero, perché appena applicato, come vi dicevo, il cedro sbaraglia la concorrenza, fa tutta la scia del mondo, un'aura intorno a voi di cedro pazzesca. Dopodiché il dry down è un pochettino più intimo, quindi sulla pelle si percepisce, diciamo, a un metro non di più. Quindi il mio voto è di nuovo un 7 su 10. La stagione che consiglio per utilizzare per questo profumo sicuramente è la primavera e l'estate. Per l'estate è stupendo, perché come vi dicevo è molto fresco, per tutti noi che poi abbiamo caldo, non sopportiamo profumi intensi, questo è un passepartout. E poi lo vedo molto come signature, quindi profumo da tutti i giorni. Quindi è un profumo che non impegna, è un profumo che potete utilizzare tutte le volte che volete durante la giornata. Ed è un profumo che, come vi dicevo, lo potete usare in ufficio, al lavoro, anche solo per andare a fare la spesa, perché è una fragranza molto delicata, però allo stesso tempo sofisticata. Quindi per tutti i giorni, secondo me, è perfetto. Di Eau Fresh lo consiglio tantissimo per tutte le ragazze che vogliono avere un profumo sofisticato, di casa Chanel, pungente, frizzante, molto girly, molto da ragazza. Questo è fatto opposta per voi. In commercio si trovavano fino a qualche tempo fa solo tre formati, partendo solo dal 50 ml. Ultimamente, negli ultimi, sembra due mesi, due o tre mesi, tutte le eau de toilette di Flank, di Chance, si trovano anche nel formato più piccolino da 35 ml. Il 35 ml viene 59 euro. Il 50 ml, che sarebbe questo formato qui, viene 78 euro. Il 100 ml, 109 euro. E hanno fatto anche ultimamente il formato da 150 ml, che è super conveniente rispetto agli altri, viene 130 euro. Sulla mia pelle dura circa 5 ore, 5-6 ore. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Rimanete sintonizzati per sapere le altre curiosità sui Flanker di Chance, di Chanel. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!